buona serata a tutti cari amici fan ebbene fino alla fine della giornata vi delizio ancora con altri due video partiamo da questo dove trattiamo il tema USA basket americano NBA G League diciamo giovani college tra virgolette alle ore 17 di oggi pomeriggio si è svolta la partita tra college park skyhawks vs wisconsin nerd vinta dagli ospiti per 118 a 115 primo periodo avanti all'inter al mini intervallo 37 a 30 agli ospiti nel secondo periodo sempre gli ospiti sopra 63 52 nel terzo ancora gli ospiti 94 83 e poi come ho detto anche all'inizio sempre loro wisconsin hanno avuto la meglio per 118 a 115 nella classifica nel gruppo est e primo wisconsin 25 vinte 7 perse tre nelle ultime cinque vinte i college park sono ottavi sempre adesso con 17 vinte 16 perse due sconfitte nelle ultime cinque partite e il wisconsin è primo per i playoff nella divisione centrale mentre i college sono a distanza di una vittoria e una sconfitta terzi nella divisione sud est appunto alla ricerca di un posto al sole nei playoff il wisconsin tra tre giorni se la giocherà in casa contro greensboro sbom che è quindicesima 7 vinte 24 perse mentre college park giocheranno addirittura il tra dieci giorni il 21 febbraio in casa dei main raid clubs che sono secondi ad est sì che sono secondi ad est con 22 vinte 8 perse quindi concludiamo vittoria esterna per wisconsin 118 a 115 contro i college park skyhawks ciao